Il Signore è la mia salvezza. Il 2 novembre è stata celebrata all'interno del cimitero centrale di Fano la commemorazione dei defunti. A presedere la Santa Messa delle ore 10 e 30, il Vescovo Andrea Andreozzi, insieme ai parroci e ai frati del territorio, alla presenza anche delle numerose cariche militari e civili. La celebrazione si è svolta come di consueto davanti al Monumento ai Caduti, un momento di preghiera molto partecipato dai cittadini per ricordare chi oggi non c'è più. Facciamo i conti un po' con la realtà ultima di noi stessi, con la nostra identità più profonda. Papa Francesco da pochi giorni ha consegnato alla Chiesa un'enciclica dal titolo di Lexit Nos, Ci ha amati, ed è un'enciclica dedicata al Sacro Cuore di Gesù e all'amore che sgorga dal costato di Cristo. Con questa enciclica tuttavia il Papa parla anche al cuore di ogni uomo e cerca di andare in profondità per ridestare quei sentimenti di amore che sono in ognuno di noi. Credo che il Papa voglia davvero trovare questa ultima possibilità perché gli uomini possano riconciliarsi tra di loro e vivere nella fraternità, nella riconciliazione, nell'amore, nell'amicizia. Nel profondo del cuore di ogni uomo c'è un senso di fraternità che può accomunare tutti. Ascoltiamo l'appello del Papa, lasciamoci raggiungere dall'amore che viene dal cuore di Cristo e facciamo in modo che i nostri cuori possano davvero arrivare ad una coscienza profonda di pace e di fraternità tra tutti gli uomini. Quella del 2 novembre è stata l'occasione per il sindaco di Fano di fare il punto della situazione dei cimiteri cittadini. Troppo spesso ci dimentichiamo di chi non c'è più ma ci sono tante persone che ogni giorno frequentano i nostri cimiteri e visitano i propri cari defunti. E quindi è anche un momento per noi per fare il punto sulle situazioni che abbiamo ereditato, che stiamo fronteggiando, quindi dalle piccole ma importanti manutenzioni che da diverso tempo non venivano effettuate. Quindi pensiamo qua al cimitero centrale, addirittura ci sono delle parti transennate che stiamo sistemando e entro il nuovo anno risistemeremo a nuovo. Ma anche nuovi loculi, nuovi posti dove poter mettere i nostri defunti e infatti in previsione stiamo correndo per la progettazione esecutiva per l'ampliamento del cimitero di Rosciano. Oltre questo è in corso una manutenzione su tutti i cimiteri comunali, anche all'Ulivo, Ferretto e Camminate. Quindi è un momento importante per fare il punto della situazione e anche gli investimenti futuri per chi purtroppo non c'è più.